Musica Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi Come sempre ben trovati all'appuntamento con Toscana Oggi Questa settimana in apertura si parla di un compleanno Un compleanno importante, quello dell'azione cattolica italiana Che ha festeggiato, ha celebrato i 150 anni dalla propria fondazione E lo ha fatto in Piazza San Pietro con Papa Francesco In una giornata di vera e autentica festa Azione cattolica da 150 anni a servizio della Chiesa Questo è il nostro titolo di apertura Argomento al quale abbiamo dedicato il paginone centrale Sul quale quindi torneremo anche più avanti In primo piano questa settimana Anche il viaggio del Papa in Egitto Un viaggio importante dal punto di vista del dialogo interreligioso Ma anche dal punto di vista di un'opera inestancabile per la pacificazione Un'opera che cerca anche di risolvere la questione dell'ISIS Del terrorismo estremista islamico Parliamo anche questa settimana di lavoro Perché siamo nella settimana successiva al primo maggio Quindi una riflessione anche per questa festa Che purtroppo festa non è più Perché il lavoro, come si dice in questo articolo In questo editoriale, il lavoro resta un'emergenza E secondo quello che hanno detto i vescovi italiani Nel messaggio appunto per il primo maggio È necessaria quella che loro definiscono Una vera e propria conversione Ma andiamo subito sugli argomenti principali Sulle nostre pagine di primo piano Sì, si parla ovviamente della storica, epocale Visita di Papa Francesco in Egitto Un profeta disarmato che invita a pace e dialogo Questo è il titolo con cui abbiamo riassunto Questi due giorni trascorsi da Papa Francesco in Egitto Due giorni con cinque discorsi pubblici Particolarmente importante ovviamente Il discorso all'Università Al-Azhar L'incontro quindi con il mondo islamico Col mondo musulmano Il Papa ha parlato dell'importanza del dialogo Ha dato alcuni orientamenti in particolare Per il dialogo che parte dal dovere dell'identità Ha detto, quindi non ci può essere dialogo Basato sull'ambiguità Bisogna avere un'identità forte E poi il coraggio di aprirsi all'altro E ha detto l'alternativa alla civiltà dell'incontro E' la civiltà dello scontro Non c'è via d'uscita rispetto a queste due possibilità E poi invece l'altro aspetto della visita L'incontro ecumenico con i cristiani copti L'antica comunità cristiana d'Egitto Con la firma anche di una dichiarazione comune Per riconoscere reciprocamente la validità del battesimo Quindi chi è battezzato nella Chiesa Cattolica Può partecipare anche alle celebrazioni copte E viceversa Un riconoscimento anche questo Importante che fa parte appunto del valore storico Di questa visita di Papa Francesco Abbandoniamo questo argomento di carattere internazionale Scorriamo rapidamente alcuni titoli delle pagine di Regione Quindi l'attualità regionale Frane alluvioni La Regione programma gli interventi Questo è quanto ha dichiarato l'assessore regionale competente Ma al di là di questo che riguarda ovviamente più il maltempo Che il tempo buono Invece il tempo anche se non è stato in Toscana sempre buono Nei giorni dei due ponti Quello del 25 aprile e quello del primo maggio Ha registrato comunque cifre dal record Per quanto riguarda il turismo Turismo record per i ponti C'è un'altra Toscana da scoprire Però è una Toscana meno conosciuta Non è quella delle città d'arte Non è quella delle proprie coste Ma è quella dell'interno, dell'amiata, dell'appennino, della campagna Delle terme Questa la Toscana da riscoprire Per quanto riguarda poi temi di carattere generale Ci occupiamo anche di Alitalia Argomento indubbiamente di estrema attualità Ma rapidamente andiamo sulle nostre pagine di informazione religiosa Sul nostro Ecclesia Sì, partendo come sempre con la rubrica Risponde il teologo Stavolta la domanda che il nostro lettore pone ai docenti Della facoltà teologica dell'Italia centrale È particolarmente curiosa Chiede se nell'aldilà potremo davvero ritrovare le persone care Riabbracciarle Oppure se nell'aldilà invece vivremo in una dimensione In cui tutti saremo uniti e indistinti Ovviamente la risposta rimane sul vago Nel senso che nessuno può conoscere quello che accadrà Nell'aldilà se non attraverso la fede Andando avanti 150 anni dell'azione cattolica Lo dicevamo Il tema a cui abbiamo dedicato anche l'apertura della prima pagina L'incontro dell'azione cattolica La grande festa in piazza San Pietro E il discorso che Papa Francesco ha rivolto All'associazione per i 150 anni Rinnovando come fa spesso L'invito a uscire e andare nelle periferie Andate là e siate chiesa Questo l'invito rivolto alle circa 100.000 persone Che hanno gremito la piazza per questo momento gioioso Anche oggi ha detto Papa Francesco Siete chiamati a proseguire la vostra peculiare vocazione Mettendovi a servizio delle diocesi Attorno ai vescovi e nelle parrocchie Sempre là dove la Chiesa abita In mezzo alle persone E poi le testimonianze dei partecipanti dalla Toscana In tanti ovviamente sono andati anche dalle varie diocesi toscane Abbiamo raccolto alcune voci di come hanno vissuto Questa giornata di festa, di gioia, di preghiera e di riflessione E dalle pagine di Ecclesia alle pagine di inventario Le pagine culturali di Toscana Oggi Che questa settimana si aprono con la segnalazione di un libro molto particolare Un libro scritto da Umberto Folena Che è giornalista di Avvenire Ma è anche collaboratore di Toscana Oggi Che ha trovato un sorprendente legame Tra il Papa, Papa Francesco Il Pontefice Argentino E l'aviatore francese raccontato nel famoso libro Il Piccolo Principe Ne è uscito quindi un volume piuttosto originale in questo senso Due voci che parlano al nostro cuore bambino Il libro è edito da Ancora Edizioni Pagine sono 175 e costa 17 euro E ancora scorrendo le pagine di inventario Si parla di genealogia Con una spiegazione di come nascono i cognomi toscani E di quali sono i passi da fare Per chi voglia cercare di ricostruire le origini della propria famiglia Con l'invito a stare attenti Da chi offre magari a poco prezzo certificati e patenti di nobiltà E le pagine di inventario come sempre Si concludono con un'attenzione alle mostre Al cinema e alla televisione Con le consuete rubriche Ma noi andiamo rapidamente avanti sulle nostre pagine locali Come sempre a partire dalla voce di Arezzo Cortona Sansepolcro Si, qui si parla di un decennale I dieci anni di presenza al Santuario delle Vertighe Della Fraternità di Betania Il polmone spirituale della Val di Chiana Così viene definita appunto questa fraternità Che da dieci anni ha preso possesso del Santuario delle Vertighe Il Santuario vicino a Monte San Savino Domenica 7 maggio Dunque la ricorrenza appunto per il decennale E da Arezzo alla prima pagina della parola di Fiesole Torna in primo piano anche qui L'Assemblea nazionale L'incontro con il Papa Sempre per quanto riguarda l'azione cattolica Che deve diventare Si legge nel titolo Un seminario di speranza Questo è quello che scrive fra l'altro Paola Fratini Che è appunto la presidente diocesana dell'azione cattolica E troviamo anche tutti i delegati fiesolani In una bella immagine appunto Sulla prima pagina della parola di Fiesole Ma siamo già sulla prima pagina dell'osservatore toscano E quindi in diocesi di Firenze Qui si parla della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni Che è proprio questa domenica 7 maggio Incontri vocazionali C'è un'equipe diocesana È stata formata infatti una equip Che riunisce alcuni seminaristi Alcuni religiosi e religiose Che si mette a disposizione delle parrocchie Delle associazioni per animare Incontri vocazionali con i giovani E segnaliamo ancora dalle pagine fiorentine Un appuntamento che ci sarà Nei prossimi giorni Venerdì 12 maggio Nella Basilica di Santa Croce Una via Crucis molto particolare Anche se siamo ormai nel tempo di Pasqua Qua niente vieta però di andare a riflettere ancora Sulla strada percorsa da Gesù verso il Calvario Soprattutto se lo facciamo con le parole particolari Con un testo scritto da Beppe Dati Che cerca di ricostruire quelli che potrebbero essere stati I pensieri di Gesù lungo questa strada E le tentazioni che Gesù ha ricevuto Prima di accettare poi la morte a cui era destinato Questo dunque l'appuntamento Venerdì 12 maggio alle 21 Nella Basilica di Santa Croce E dalle pagine di Firenze A quelle di Grosseto Con i giovani c'è bellezza di comunione Si parla di un incontro Che i giovani di due diocesi Sia quella di Grosseto che quella di Pitigliano Sovano Orbetello Quindi le due diocesi della Maremma Toscana Proprio la Maremma del Sud della Toscana Hanno partecipato ad un incontro a Nomadelfia Lo ricordiamo la cittadella fondata da Don Zeno Dove la fraternità è legge Un incontro che si è svolto il 25 aprile Si è parlato di pastorale giovanile E da Grosseto ci spostiamo sulla prima pagina di Lucca 7 Si qui si parla della missione agli ordini sacri Per tre giovani lucchesi Nella domenica del Buon Pastore La domenica 7 maggio appunto È la domenica del Buon Pastore La domenica in cui come dicevamo si parla Anche di vocazioni Dunque per la chiesa lucchese è l'occasione di festeggiare Luigi Angelini Francesco Parello e Fra Daniele e Maria Soletti Che ricevono appunto la consacrazione Dalla Maremma all'Elba Quindi siamo sulla prima pagina di questa edizione Che ci ricorda alcune celebrazioni che si sono svolte nei giorni scorsi Soprattutto nei giorni finali di aprile Ad esempio la Madonna del Frassine Che è stata celebrata il 25 aprile Il Frassine è un santuario che si trova proprio in diocesi di massa marittima Piombino Che è notevolmente frequentato appunto dai fedeli di quella diocesi La devozione verso la Madonna del Frassine è notevole Ma siamo già sulla prima pagina di Pisa Vita Nova Sì, qui il titolo è dedicato alla bottega dei miracoli Una novità interessante È un negozio social Promosso dalla Caritas diocesana Ci troviamo in vendita prodotti particolari Come la cioccolata prodotta dalle donne vittime di violenza Nei laboratori siciliani intitolati a Don Pino Puglisi Oppure oggetti regalo fatti a mano dai detenuti del carcere Don Bosco E ancora vino, frutta, verdura che viene dall'Oppiano La cittadella dei focolarini Insomma prodotti che hanno una storia Una storia significativa Questo negozio darà lavoro anche a due ragazzi down Un'iniziativa dunque da conoscere e da frequentare per i pisani E da Pisa Pitigliano Sovana Orbetello Siamo sulla prima pagina di confronto Si parla della festa della famiglia Legata alla Moris Letizia Molto partecipata L'iniziativa degli uffici di pastorale familiare Giovanile e vocazionale E anche dell'azione cattolica L'azione cattolica che ritorna spesso Come abbiamo visto nelle nostre pagine Proprio in occasione di questo 150esimo anniversario della fondazione E siamo in Diocesi di Montepulciano Chiusi-Pienza Con la prima pagina dell'Araldo Poliziano Qui troviamo il racconto del pellegrinaggio diocesano Che si è svolto martedì 25 aprile Un appuntamento ormai tradizionale Per la Diocesi di Montepulciano Chiusi-Pienza Che quest'anno ha avuto come meta a Bologna Quindi col Vescovo Monsignor Stefano Manetti Che ha guidato questo viaggio I fedeli hanno visitato la chiesa di San Petronio Hanno visitato la chiesa di San Domenico E poi hanno incontrato anche il Vescovo di Bologna Monsignor Zuppi Andiamo rapidamente sulla prima pagina di Prato Anche qui si parla di un negozio solidale Questa volta si parla dell'emporio pratese Appunto gestito dalla Caritas Anche questo E si fa un bilancio dell'anno di solidarietà di questo supermercato Un bilancio che troviamo nelle pagine interne Dove troviamo un titolo molto significativo Se non ci fosse l'emporio Cioè è veramente diventato importante questo supermercato solidale Pensate che in un anno ha aiutato 1895 famiglie E praticamente sono stati in questo anno 815 euro È stato il valore medio erogato appunto Per ognuna di queste famiglie Oltre 2 milioni di euro i prodotti distribuiti Quindi è grande veramente importanza Dell'emporio pratese di solidarietà E stiamo sulle pagine di San Mignato La domenica Sì, qui troviamo il ricordo Un ricordo di Alberto Gianni Dieci anni dalla morte Un affettuoso ricordo di questa persona Molto amata e stimata a San Mignato E poi scorrendo le pagine Ancora invece Don Divo Barzotti Un mistico alla ricerca di Dio Il 25 aprile è l'anniversario della nascita Quest'anno erano 103 anni Ed è stato ricordato Il fondatore della comunità Dei figli di Dio È stato ricordato Nell'eremo delle Fornaci I membri della fraternità di Palaia E Livorno hanno organizzato Guidati da padre Serafino Tognetti Una giornata appunto Dedicata alla memoria di Don Divo Barzotti E siamo sulla prima pagina Di Siena, Colle, Valdelsa, Montalcino Dove troviamo le feste cateriniane Che fra l'altro quest'anno Nel momento conclusivo Nella messa solenne conclusiva Ha visto la presenza La celebrazione, la presieduta Dal cardinale Giuseppe Betori Arcivescovo di Firenze Che nella sua riflessione Ha detto in maniera molto esplicita Ha detto ai fedeli Non è tempo di dormire Questo l'appello di Betori a Siena Facendo riferimento a quanto faceva Santa Caterina da Siena Siamo sulla prima pagina E la voce di Valdinievole Quindi in diocesi di pesce Sì, qui troviamo ancora L'eco del rientro in Italia Di Gabriele Del Grande Il giornalista tenuto in carcere Per diversi giorni In Turchia Gabriele Del Grande Ringrazia per la solidarietà Ricevuta in diocesi di pesce Infatti abitano ancora I suoi genitori E tutto il territorio Si è impegnato molto Per richiedere la liberazione Di Gabriele Poi nella seconda pagina Troviamo il resoconto Di un altro interessante incontro Che si è svolto Un dialogo sull'enciclica Laudato sì Si è svolto a Borga Bugiano Insieme ad Alfio Pellegrini Sono intervenuti Il vescovo di Pescia Monsignor Roberto Filippini E Francesco Gesualdi Che è stato allievo di Don Milani E che ora si occupa Proprio di tematiche Relative all'ambiente E andiamo sulla prima pagina Di Vita Apuana Dove ritroviamo Come avevamo visto Del resto e sottolineato Anche in altre edizioni Ritroviamo i 150 anni Dell'azione cattolica Azione cattolica Da 150 anni Nella Chiesa E poi nelle pagine interne L'intervista Al nuovo presidente Dell'azione cattolica Diocesana Nominato di recente Chiudiamo Questa nostra rassegna stampa Di Toscana oggi Con l'ultima edizione A nostra disposizione Quella dell'Araldo di Volterra Sì qui si anticipa Un tema La giornata Per il sostegno economico Alla Chiesa Che sarà Il 14 di maggio Per la nostra Chiesa Partecipazione E corresponsabilità Questo è l'invito Che troviamo Nella prima pagina E poi ancora invece Scorrendo Alla pagina 2 Un altro appuntamento Sempre domenica 14 maggio Il convegno Delle Caritas Parrocchiali Che si svolgerà Appunto a Volterra E questa da Volterra Era la nostra ultima notizia Come sempre Chi volesse avere Informazioni Dalle Diocesi Toscane E può navigare In internet Il consiglio È quello Di andare a vedere Il nostro sito Internet Appunto www.toscanaoggi.it Aggiornato quotidianamente E per il resto Invece Un grazie per l'attenzione E come sempre Appuntamento Alla prossima settimana Aggiornato quotidianamente Aggiornato quotidianamente Aggiornato quotidianamente Un grazie